Partita Aggiorna la pagina di Youtube, ok No, è Twitch Eeeh, pezzaccio, cosa credevi tu? Adesso vediamo un attimo se è partita Tu Twitch ti chiami bingo bango bingo Ancora? Piccole canzoncine crescono, proprio Come faccio a mettere? Carino, gendarmerie Ok, dovrebbe essere partita Ok, si sente tutto Ok, dovrebbe essere partita, perfetto Sì, è partita Bene, 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 bene Per l'andiamo a finire Sì, esatto Nel frattempo, bravo, grande Marco Bianchi E' ben arrollato subito come è arrivato Perché su Twitch funziona Streamlabs Invece su Youtube no Quindi, bello a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima live su Twitch E finalmente siamo ritornati Dove oggi, speriamo se siamo in compagnia Proprio grande compagnia oggi Siamo in compagnia di Ultimate Totem Ah, ciao Mister Pierre Il cliente l'hai chiamato Non è momento di scrivere E commando Buonasera a tutti ragazzuoli I grandissimi ragazzi degli Attic Gaming Group Finalmente siamo riusciti a fare una live con loro È una rarità In live Però adesso ci saranno tante Perché se no io gli inculo a tutti e tre Giusto? Ma Con la copietta Giusto? In realtà ha detto Siamo in gentile compagnia Ma noi siamo prigionieri praticamente Non è vero Non è vero Ma Mi sciogli un po' le mani Mi fanno male i bolsi Non lo sapete Ma noi siamo tutti in camera dei Mattex E io sono vestito pure di pelle Di pelle Ho detto giocare con una frusta Quindi ho quasi paura Di quello che mi ha accaduto La live Va bene Quindi ragazzi Oggi andremo Andremo in Libra Tanto per cazzeggiare Per stare belli tranquilli Quindi giocheremo un po' così Ecco dai Quindi se vogliamo avviare la Libra Che dite ragazzi? Vai Sì Vai 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 Scavicchi ma non apra Ciao Zodiac Scavicchi ma non apra Eh ma nessuno parte Diciamo sì sì Oh qui di cattiveria Si va Attenzione Attenzione Eh madonna Ormai è vecchio Sarà morto Ciao Ciao bello Se sta godendo la vita In cosa Se sta godendo la figa Sempre a pensare Sempre certe cose Le porpie Le porcane Le porcherie Le porcherie Sono al centro della vita Guardali Guardali Ecco Questi barboni Che duppiere Come sfruttano Di ero Gli stimpacchi O degli altri Ecco lo va Ciao bello Ciao bello Ciao bello Una mappa nova Ok Chi prendete? Non maletti Si son passi Allora io raga Camero Ho giocato praticamente pochissimo Ciao monster Vai Per questo la giocherò Oh così proprio Caveira Proprio così Ah si? Aha 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 Che palle Ma perché il libero è brutto per questo Abbandona sempre tutti Abbandona Oh piccolino Ah perché sono pezzacci di merda Non ti preoccupare Ci sarà un amico Perché hanno messo il gra... Visto che io sono oro qua A te... Ma via Ma via Ah via Ma ti sciopo Che credito voglio rassicurà Quando arriverà il momento Te giuro Te giuro Non te lascerò nel canile Ma Direttamente sull'autostrada Bella mostra Così L'orientamento Io gioco a partite h1 o z1 Quindi... Eeeeeh Ahahah Quindi l'orientamento non mi pacco attenti guarda ti abbandonano sull'autostrada e ti ritrova nel primo autogrill che l'avevi per terra ma cosa? eh guarda che buono ma daaa ma perché la gente è quitta? che palle la gente non ha pazienza perché c'è quello che carica tre ore eh vabbè ho capito che carica tre ore ma date pazienza a tutti non tutti nel mondo hanno un super computer come quello di Pier guardali 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 no anche io cazzo proprio diamogli il culo questo è l'updance vabbè quindi ma l'ostaggio potrebbe far parte della coppietta giusto? si basta tagliarlo nei punti giusti salarlo pepallo la mappa l'ho fatta 20 volte questa sancia non me la ricordo manco di street perché a te puzza i piri che intelligente questa macchinina 5 secondi vieni video prescincuola ciao data dispositivo attivato attenti la squadra adattata uuuh guardate Pier come si destreggia con il suo piccolo medico si uuuh 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 che cacca sotto qui volando fesa proprio ma dove vado? ciao ronky non c'è nessuno guardiamo un mare in azione guardiamolo con piccola cavera oddio madonna mal di testa tipo vomiti oddio sono passati di qui la telecamera oh no madonna mia madonna mia spara l'hai visto non ci credo no questo è proprio l'apice della sfiga e comunque da qualche minutenziata c'è questo è proprio l'apice della sfiga lanciare il c4 te lo distrugge mentre spara a caso beh effettivamente ci rifacciamo dai ci rifacciamo eh la prima è per i bambini è normale riscaldamento dai riscaldamento e tutta una cosa fettura allora io prenderò twitch mi sa io voglio qualcuno dallo stupro facile dallo stupro facile qualcuno dallo stupro facile prendo lui prendo lui prendo lui prendo lui ma questo non viene stuprato questa ha la cintura di castità al culo è normale che qui c'è l'1 a 0 contro ma io Maurizio Costanzi bani 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 senza collo bani bani ti prenderò e ti ucciderò tu non puoi fattare e poi c'è anche il gabibbo eh il gabibbo vai vai voglio senti piare che fa il gabibbo vi prego partiamo con le papere papere ma no io faccio sbagliato papere papere c'è anche giuliana no 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 questa è la più carina però gliene devo dato oh attenzione attenzione oh 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 io mi fico no non mi ha messo non mi ha messo 5 secondi all'inserimento 5 secondi più della nostra vita eccoli eccoli attenzione a spawn kill oh madonna già minaccia col martello proprio mi spazza un attimo mario devo testare il tuo scudo e non muoversi oh oh tono il culo merda spawn killer del mio cazzo ti puzza in piedi ti puzza in piedi ti puzza in piedi madonna chi è che sta pingando in continuazione sei stato individuato sei stato individuato alla prossima ti sparo in testa eh lontani dall'esplosione aiuto mi sto continuando in continuazione ragazzi abbiamo spaccato le telecamere che mi sta ma guarda nessuno che spacca le telecamere io non so manco dove stare proprio la vendetta dello spawn killer ti 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 stupro di suoni ti 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 babababababa tu sei roba noi siamo entrati dall'altra parte della casa proprio ma smetti questo martello che c'è Ragazzi l'ho ucciso, l'ho ucciso, aiutatemi Help me, help me please Ma hai ferito Pier? Si Qualcavolo che ti ho ucciso Arriva Catera Oh mio Dio Mi dispiace Non voglio stupri Carica in posizione Help me please Ecco I need help Stiamo arrivando No è lontano Dietro ce l'abbiamo Dietro Dai ammazzalo, ammazzalo E l'ho ferita parecchio Mamma mia L'ho scudo più inutile di tutto il mondo Veramente io ho sparato Quando gli è arrivato anche un colpo Gli è arrivato Rettifico Lo scudo più inutile di sempre Abbiamo Pier a terra, Pier a terra Pier sarà molto debola dopo tutto sto tempo Vediamo se Matex attenzione Se ne va sulla forza Io qui faccio capire cazzo E ancora Forza Forca Troia Ma chi è che mi sta pingando Pfff Bene Attenzione si si distregge con la porta Attenzione Attenzione Sta mirando Adesso entra Un 1-2 Un 1-2 Un 1-2 Un 1-2 Un 1-2 Un 1-2 E adesso verrà sceltato dalle scale Arrivà 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 La senti Sulla destra Ma io ho paura Ma io ho paura Se si gira c'è Se si gira c'è un chilo di merda dietro Questo è russo Questo è russo Where are you from? Beach Beach Lo so duro dall'accento Cosa? Oh 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 In una maniera esagerata Mk Ma cosa? Ma mi cambiava l'arma Dammi la cazzo di pistola Dio mio Porca Troia Ristrutturazione in comina C'è Vabbè Sembra un film dell'horror Dun 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 Facci Certo ci sono Sicilia E me fa da strozzà being careful lo strozzamento in gomini E' strozzamente in corso Dai uso smoke visto che non l'ho mai usato in vita mia E io perchè sono ribelle, uso doc senza... Io sono ribelle Allora io uso doc Perchè mi sento ribelle oggi Oggi voglio andare contro la società Ora ferisco l'ossaggio, lo curo con la... Ma cazzo ma premevo due, non mi cambiava porca di quella puttana l'arma Dammi la pistola, c'ho una cazzo di revolver Gli davo una sfucilata e lo attaccavo al muro E poi lo stupravo Perchè sono Twitch, e c'ho i buffi sotto la passamontagna Ma se lo stupri da mostro Va bene Rocky Eh, mi è scappato per sbaglio Si, ti è scappato per sbaglio, ti è scappato Dona, sto mettendo su Rook le cariche So se qualcuno di voi era Rook Forse no, forse si Chi lo sa, mi stirò della fide Mi stirò della fide Ah, arriva un drone Ah! Uno è morto Hadron, coglione Oh no, bastardo, mi ha fregato coi drone Tanto sicuramente ripassaranno come prima da sotto Ah, ma è litte l'anus No, no, mi metti con l'arma Contatto nemico con l'ostaggio Ti puoi metto qua Dimmi tutto quello che stai ostaggio, ti lasci le penne E così Ciao Mari Ho paura Ma anche io Io no, l'ostaggio con me Ho uscito, ho paura Twitch ha rotto il vetro Tanto ci sta fa un po' di punti eh Hanno spaccato questo da me No, questi sono scale Ho paura Io non ho capito se sta sparando di sopra o qua sotto sta aprendo Oh, non si capisce Questa è una mappa di cose Eeeeeeeh, what's up? Lo sai che chiave la devi interrocare, no? Ah, no, 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 no Trova di Twitch Non fa un cazzo, non fa Stai Tintro Re non mi ha visto M'ha visto Fuci Oh Oh mamma mia Può arriva da una granata da Timbuktu Timbuktu I need to heal myself Cazzo è porco qua sotto Pryon mi fa prendere un assist. Un headshot. Un head-sist. Ho preso l'headshot, io ho preso l'assist. Ma io mi prendo la palla a destra. Ma cosa? Le mie belle mie le ho sentito. Coni, a sinistra. Ok. Lancia un cazzo a sinistra. Io ho sentito movi, ho sentito guardare la telecamera. Era il nostro. Eccolo. Eccolo. Bravo Tony. Non l'avevo visto però eh. Cosa? Come ha fatto a non averla presi Bada? Cioè, voi guardate, Bada si fa vedere la scena. Era di fianco al C4 e non muore. Inspiegabile. È scappato subito. È scappato tipo alla Willy Wonka. Ho capito che è scappato, ma cazzo c'è c'ha due piedi. Tipo vedi male che inizia a correre tipo a quattro zampe, inizia a correre così. Smaterializza. No. No. Quanto volevi? Dimmelo piccolo bambino. No, non te lo dico. Volevi hash? No, no, no. Io te la do. No, no, no. Apro le gambe. Per me voleva esser stuprato. Ho preso Jackal. Uh. Tanto ti scasso lo stesso. Eeeh. Qui vuole all'offese, eh. Offese. Attenzione, qui partono le coltellate. Eccolo. Regà, non mi fate sfoderare le lame, regà che è un casino. Eccolo dopo. Eccolo dopo. Se no ti incassa la chef. Ma mica per altro, perché dove? Mi sono due per rinfoderarle, regà. Eccolo solo per quei, non vedo motivo. Se ne sfodero qualcuno ha da morire, eh. Eeeh. Pierre. Dimi. No, tu devi morire. Se ne sfoderare. Ma io sono immortale. Come sei immortale? Ma qua c'è arrivato il drone di Twitch a colpirlo. A me quel danno mi risuscita tanto. Pierre sarà verde se lo guarda adesso. Eeeh. Pienso Hulk? No. Cioè, parla di Gul'dan e parla di Gul'dan. No, no, no. Anche che fa Gul'dan. Lo fa, lo fa, tranquilli. Ok, lo sponchi, eh. In tre secondi più in due della nostra vita, ecco. Vostaggio in vita. Pienso non esce e corro più di voi. Ah, è morito prima. Vostane, zoccole. Perché non ti lavi la vagina? Ah! No, non è vero, lascia stare i miei baffi. Puffo, ti ti. Po, po, po. Che c'entra lascia stare i miei baffi? Sotto a... Ah, che c'entra? Oh, sui chi là sotto potrebbe avere di tutto. Sotto a quel coso. Potrebbe avere di tutto! Eheheh. Vai, commando ULF, si sacrificabile. Quale cosa? Io... Avete capito che io sono il calzolaio più famoso delle West? Ehi? Madò. Diceva lui. Diceva. Io senza guardarti i piedi riesco subito a dirgli che il numero c'hai. Ma... Sta ferito mi sa chiedo. No, mi ha distrutto il drone. Oh, ma io ho sparato 20 colpi. E crepa un po', è mia. È mia. Oh, infatti lo assist. È mia. È mia. Ma la freqata! sono bravo a fregare le kille di tommai oh vedo dei piedi vedo dei piedi dove? feticista di merda copritemi che vado guarda che è brutto aspetta cos'è analizzando i piedi eh ma me è così stesso fa come cosa ok mira 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 qui e qui a 16 metri e lì dietro posso fa come? come coso lì come si chiama quello lì? pier pepe fetici pepe bergomi scappo 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 oh madonna tutti lì pronti a devastarlo potete mettervi tutte le recote e pompe e muoverci a trenino per la mappa strisciando no no non finiamo più pepe pepe esatto maggio che l'hai visto però nel video di gamesprout perchè l'ho vista sta cosa già perchè quella ha scritto no 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 perchè qualcuno gli stava offrendo la coppietta col finocchio no 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 il mio culo voglio fare una cosa solo per voi raga piova altyria non utilizzerò le telecamere ma le tengo per tirarmi la nostra gente guarda come muore se lo fai se lo fai pier fa una live su chaturbate no sii no no questa è sfida aperta non è ufficiale confermi Mario confermi confermi la sfida a parte questo ma accetterei guarda se lui non se la sento da fare una cosa del genere accetterei pure che esce il cazzo su chat e roulette oh 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 ma veramente no ma deve filmare il tutto requisitimi uno che potrebbe poter denunciare ma che bene il successo e roulette ci sono cose non cose ci sono cose non cose chi è che spara come un dannato? io! nooo grazie ma finisci prima o poi hai detto bene prima o poi allora ma da mettere in punto non lo posso da una schioppettata a qualcuno senza che se ne accorga sembra difficile però da qua sembra che non siano sporati cose non cose cosa non cosa e l'ho spinato in campo aia aaaah aaaah guardai Mario com'è crepa gli do 25 secondi di vita che cattiveria poca fiducia 20 20 le chitarre uoi 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 bella stigitarre poi è entrato Atrio nuovo caricatore porco giuda jagal m'ho ucciso dallo spawn ton No, non è forte la sua arma, perchè? AIA! Raga, riavviò un attimo il gioco, intanto che fate la partita, sono morto! Cazzo dalla spomb, davvero? Eh sì, hanno l'ottile vetro di mira la buccaniera. Buccaniera? Dai, ce la posso fà, a fa' sta cosa. Mario, dietro, Mario! Nido, pronto! Pietro, non c'è il nudo, e poi tu non c'è sei! Madonna, no, hanno ucciso... Tuomo, ragno. Tipo dentro lo stagio. Madonna! Qual esce non muore. No, cazzo, dal fianco! Eh, troppo scoperto, ragazzi, sono vicino lo stagio, occhio. Bella, Pier. Come ho fatto? Come ho fatto? Occhio, ragazzi, c'è la giacca al di sotto, eh. L'ha preso dal fianco, è davanti alla porta. No, Pier! Bugo de' merda! Eh, ce l'ho tutti nelle tue mani, ma... Un quadro d'attacco allo stato. No! Ah, è quello del buco. Eh, è passato lì davanti! No! C'è chiudere il bagno! Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so! No! Mamma mia! Eh, dai! Eh, guarda come metti i bag, no? No, poi c'è un fucile a pompa, quando cazzo andavo io? Maledetto, tia! Vabbè, 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 dai, eh, la libra, tranquilli. Ma la colpa per me è di Tony che ci ha abbandonato, lui era il portafortuna. Io lo sapevo che ormai era una questione persa. No, ma che maledetto, sei proprio cattivo! Eh, oddio. E potete invitarmi, portavo di nuovo fortuna e benessere e peni. No! Ti invitiamo immediatamente. Ah, la richiesta arriverà a breve. Esatto. La richiesta è arrivata. Ok, allora, riusciamo nel matchmaking. Ciao, Lino! Sono solo con Pier. Invece io sono solo con Mario. Allora, entrate qui perché a Pier gli puzza le piede, voglio farci un bankabur. Ma perché ste cose? Vai, ci sono. Manca Mario Lintz. Terra chiama Mario. È morto, è morto, è morto anche nell'area all'a, secondo me, eh. È morto da bene. All'ala quitor, Mario, ci sei? Passo. Bene, Mario è morto e poi uno, siamo in tre. Guardate, se non Mario non risponde. Per me è andata a prendere la coppietta. Ecco. È andata a guardare la coppietta se è posto, se c'è il finocchi in mezzo. Ma che cazzo. Oddio. Ma proprio, oggi il server da Ubisoft ha funzionato. Ecco, sentito. L'arrivo con la coppietta in bocca. Salute! Oddio. È morto. È morto. È morto. È morto fatale. Probabilmente gli è andato di traverso tipo la coppietta. Oh, oh, oh. L'ho disteso parterra viola in faccia. Oddio. Dicevo oggi se era Ubisoft un funzionato per caso. No, funzionavano. Funzionavano? Forse quando io sto a giocare a H1-Z1 sono andati un po' in tilt. Perché mi hanno detto mentre facevo la streaming che non andavano. Davvero? Mi ha mandato l'impianto, raga? Già mandato. Sì, ma dura 30 secondi. Se tu vuoi prendere le coppiette. Big dialoghi sulla scuola. A casa no, rimorchi le coppiette. Si parla di scuola, stasera. Siete pronti per una libera? Una libera? Io sono sempre pronto. Ok, allora. Oh, il grande Draven. Vai. Vincerò, vincerò. Ah no, vincerò. E guarda, vincerò. Poi fanno questo. Perché fanno, holy shit, vincerò. Vincerò. Holy shit. Oddio. Mario. Mario. Non sapevo che sei rassentata la merda. Ma questo caso hai messo i busta a manete. è il 120% proprio. Holy shit. Mamma. Holy shit. Fuck you man. Ok. Ah, lo prendo io sto giro. Ah, ah, ah. Volevate invece no. Che pezzettino di escremento di topo. Poi di topo. Allora sei proprio sfacciato e maleducato. Sì. Certo. Ma guardatelo, Pier, con la skin shoppettina. Dov'è la skin shoppettina? Boh, è bella come è. Ma dove lo vedi la skin shoppettina? Ma perché è bella? Se invece è tipo, fa cagare. Tipo da me, vedi che non c'è la skin, quindi non shoppettina. E invece hai la skin, quindi shoppettina. Vabbè, ma questa l'ho comprata. Madonna, l'ultimo Mario si mette nell'85. Poteva essere fatale la cosa. Ma veramente l'ho comprata la skin, l'ho comprata quando il gioco ancora non usciva. Madonna, c'è ancora prima che uscisse il gioco. Già mi hai preordinato quella skin. Su Ubisoft shoppettina proprio. No. Non lo sapevi che io sono insieme alla Ubisoft... Oh, è colpa tua, che hai fatto un gioco di merda. Ricordi l'altro live che ho chiamato alla Ubisoft... Ah, è vero, è vero. Eh, c'era, è vero, è capito. Che cazzo dici? Oh, Mr. President. Oh, così. Yo, Mr. President. Vai. Dovete localizzare il reggio. Oh, te oggi mi sono guardato i vostri video di Don't Stare. Ah, ok, perfetto. Quindi la mia ragazza vi ha guardato i vostri video. Su Don't Stare. Come cazzo si pronuncia? Quale onore? Don't Stare. Don't Stare. Con la R per dire che è in inglese, giusto? Perché so, per R, non ti capiscono. Se fai la bocca tipo che stai per vomitare, stai mi inglese. Tipo, oh, 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 oh. Ma che è un tesidio? Ah, no, salvatate. Che stavate dicendo? Stavo dicendo solo cose belle sul tuo conto. Bello, grazie. Ok, praticamente, ha scritto la mia ragazza che ha guardato i vostri video su Don't Stare. Ah, beh, guarda. Non ne so quanto è convenuto. Ma che cos'è, Don? Penso che... Stare. I più scarsi mai esistiti su Don't Stare. Don't Stare. Allora. Oh, Sponky. Dove? La resta una bar. Vale dico. Che pezzettino, dai. Che pezzettino, infatti, di sterco di topo. Guarda, do ragione. Di topo pure malato. Ma che cazzo c'era mirac... Oh, che figlio di puttana. Mi aspettavano le scalette. Ma che figlio di puttana. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, davvero. Guarda, non se la che faccio, non se l'aspettavo. Esatto. No, non me l'aspettavo proprio, guarda. Ma vado per anche un colpo. Pensavo che se la porta parte invece la dica aspettavo. Ragazzi, io intanto ho mangiato un altro pezzo di coppietta, c'ho la lingua d'essera. Ancora, ho la coppietta. Ancora. Sto a soffrire proprio. Ah, senti la parola per me. Come sta fiottando. Come li hanno messo. Come vengono fuori i ruti a sapore di coppietta proprio. Attenzione, Tony. Tony entra la carica. Oh, Tony, c'è un matton. Tony, la coppietta, il profumo di c4. C4, 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 c'è morto. Invece no. E crepo un po'. Quanto è di vita? Che gli dica a fece? Ciao. Tutte le barne. Cioè, ha sparato a c4 della salvezza proprio. Il tiro, ma ha salvato l'anno. Oh, attenzione Pier, il salvatore. Infatti poi vediamo il mare, il lopo. C'è l'altro sopra. C'era uno, c'era uno. Eccolo. E spara come un matto. Ma che tiro? Ma la batte fin del tuo gioco. Cioè, praticamente non c'è più il muro. Ok, l'idea. Come sei morto? Arriva. Destra, tutto a destra. Sto a guardare a destra. No, tu. Eh, allora, dillo. Bravo, lì, 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 lì. Bravo. Bravissimo. Reboot. Oh! Cazzo di... No! No, durante la felicità con due di vita. Atesimo poteva essere la sfida del secolo. Mi sono fatto ammazzare per ride. Sto a sparare a caso. L'ho ammazzato. Sto a fare il coglione. Libero, libero. Adesso comparo un carino. Ok, esci dalla finestra sulla sinistra e poi vai sotto dove ho fatto scoppiare la... ...ol termite. Ciao, mister boss. Dai, Vettani, siamo tutti con te, siamo. Siamo tutti con te. Sei forte, due di vita, non è niente. Basta che lo sputano in faccia e muore. Non farti sputare. Non farti sputare. Non farti sputare che schifo. Aiuto. Aiuto. E sali sulla scala handicappato. Allora, un minuto. Un minuto, è un minuto. Hanno richiuso. È, hanno richiuso. Che pezzi di merda. Questa sarà la tattica, metto la carica qua. No, escono, escono. Faccio la finta di non essere mai passato per di qua. Un po' lunga come nome ci sto lavorando su. Peccato. Sento qualcuno che rompe. Non è di lì perché sta spaccato. Che è sto rumore? Te l'hanno spasciata. Oddio! Mi ha preso un colpo! Mi sono caduto addosso. Cosa di mira. E basta! Ma cosa hai fatto? Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Ma cosa stava fanno? Quando guardava? Madonna! Guardava negli specchi. Ma ancora il cuore che mi fa male. Madonna mia! Cioè, a me ha preso un colpo, vi giuro, con Cavelli. A me ha preso un colpo a me. Io ho buttato in basso. Madonna! Che cazzo è combinato! Madonna! Oddio! Umiliati dal Tony! Con due di vita per tutte e tre le equipi. Clan umiliato dal Tony! Grande, no? Grande giocata! Vai! Vai! Adesso non mi devo fare inculare. Non mi devo fare inculare. Come prima! Yep! Ma guarda come è rosica, si vede dalla Ipsino che gli sta rinunciando un sacco. Si vede dalla forma della Ipsino. Che è tipo tutta scritta male, con tipo quel tic nervoso. Sì, è stato sicuro, fortissima della santa. Eh, bei tempi. Beh, non mi voglio dire. No, Toto, non è fortuna. Il Toto ha fatto una gran roba. Ah, è proprio, è nel sangue. Io ero sicuro di vincere. Fa lasciate stare che mi sono cagato a Toto, se non ti è passato la camera. Madonna! Non mi dica che è andata a prendere altre doppiette che l'ho shotto. È fermo, davvero è andata a prendere altre doppiette? Eh, doppiette, eh, fucine. E' le doppiette. Ancora 10 secondi. Non abbiamo la doppietta, non abbiamo pensato di pane perché la doppietta mi ha lasciato una volta. Dai, intiro. Ok, è sposo il mondo. Non l'ho visto, io si aspetta che io rimango ancora lì, e invece no. Ci penso proprio. Tiero! Oh? Ah, alza, ti corre, c'era uno dietro. Ticuro. Eh, a voi. Guarda come si fanno i joke, questi due. Joke. Io ho un altro mute. Ho un altro modem a DSL che lavora. Oh, chi ha? Quattone. Beh, l'hai sto fucilo a fumo secondario? Ma in realtà però non fa tanto... No, devi stare vicino. Stanno a salì. Da dove? Sto saliti, cioè in montagna, è lì. Dov'è? Stanno sul terrazzino. Stanno arrivando da quella parte sulla destra delle scale. Quelle di ferro. Quelle di ferro. Quelle di ferro. Quelle di ferro? Sì, quelle di ferro. Vai ma... Come chi cazzo mi ha sparato? Come chi? Ma non me vedeva. Forse aveva l'impronta, aveva letto il tuo numero di scarpe. Vabbè. Ma a te che si fa la kill. Ricarico! C'è uno da te, Tony. È la finestra. Quale finestra? La più vicina o la più lontana da te. La più lontana da me. La più lontana da me. Io non mi spari, io non mi spari. Io non mi spari, io non mi... Addio! Sento Montei. Oh! Sensore attivato. Ma chi la chiude, sta finestra? Dai che non c'è nessuno. Chiudi, chiudi. Ho sentito una shield. Allora, arriva in montagna. Chi è appena dietro, Pier? E no me ne frego un cazzo. Porto a Montei. Sono il Pier. Oh, l'ho visto. Dov'è? È lì. Bene! Grandi! Ciao, sala. Attenzione. Attenzione! Mamma mia! Guardalo, guardalo! Immortale! Immortale! Non muore! Niente può ferirlo! Niente proprio! Nothing! Ma ne esageriamo, se arriva Hulk mi ferisce. Così. Chi prenderò? Dai, andiamo di Twitch. Dai, gli do fiducia. Con quella mascherina. Tutti i coglioni... No. Il push malefico. Eh, ma bene o male, l'occhiai ce l'hanno quasi tutti, eh. Qui ce no, perché... Qui ce no, perché... Qui ce no, perché... C'ha i buff e la lauce miunti nei capelli. Vedi che fa quello spessore, non è il naso. In realtà, lei c'ha il naso tipo Voldemort, però c'ha i buffoni, sì. Solo io penso che dietro quel passamontagna ci sia un bel pezzo di figa. Sì, basta, solo tu. Sì, 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 sì. Perché tu pensi solo a figa e coppietta. Così. Ti senti tipo uno schiaffo dietro nella capoccia di Mario? Dice, ragazza, vuoi finire? Pensa sempre le femmine. No, penso che mi sblocchi più. Pensa sempre la coppietta. Sì, non sei se posso nostro. Mi spacco le telecamere. No, 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 no. Ho paura. No, 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 no. No. Non ce l'ho fatta salire. No. Nitativo della vita. L'ho visto Jäger. Ok, potremmo fare Spunking di nuovo. Ma pesante proprio quello Jäger, si, si. La cavera è andata a sciotto. Attenti perché... pure sulle scale si fanno puntate sulla porta. Occhio, PR se vai di sopra potremmo usare tipo un glitch. No, ti hanno rotto il drone. Si, stanno a fa... Ma chi è che è? MADOMA VOLLA! Bravo! Spunking! Da dove? Su quella porta dove Mario ha fatto usci il drone che gli hanno distrutto perché... Eh, si, si, si. Oh, ragà, sentite questo. Nice one luck. Ma cosa? Non so se... Impara a giocare. Iiii, siiii, man! Questa è tutta skill. Oh, maaah! 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 Maaah, maaah! Maaah, 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 maaah che liscio mi hanno fatto. C'è caviera qua dietro, eh. C'è finestra aperta anche lì. C'è finestra aperta anche lì. C'è spostata. L'hanno spaccata. Comunque arrivate all'esterno. All'esterno? Eh, di sotto. C'è uno qui dentro, eh. Ho scritto Piero sui città, è una persona di merda. Hanno detto sì, lo so. Ma come? Quanta cattiveria in questo mondo. Postaggio trova. Mario ti ho fatto una domanda! C'era quello stanzino. No, 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 no. Però sto nella stanzino a sinistra, quello. Nella stanza grave, ero stanzì. Trova i tuoi piedi, esperta! Vai, vai. Lo scannerizzo, regà! Vai. Maaah! È Doc. Dalle scale! Esho, Aesho! Esho. Esho. Gensha, gensha! Dalle scale! Eeeeissh! Sto parole Italo-Giapponese! Eh io c'ho qua a cavera qua sotto Ci sta un Un tipo, ecco è Doc, è Doc da l'ostaggio Uccidete Doc E' la mediteria libera per il paradiso Come si dice a caso in inglese? Caso Ace Ace Beh, io ho ucciso A caso, come si dice Hai asciutto a case No, aspetta, ma non è possibile Sta cosa però, eh A quanto pare è possibile Da dove? Dallo stanzino dello stagio Hai asciutto a case Hai asciutto a case Oh l'hai visto, vincenzo Bravo vincenzo Ma quello che stava a far difendere Oh l'ultimo, quando ha matto E' dentro, è dentro Sì, sì, ma pure Matonna Ma questo è giocato Sono già giocato contro questi qua Una volta Perché c'hanno tipo L'immagine tipo da capitano No, c'hanno l'assio contro PR Ce l'abbiamo già incontrato Questo è giocato Questo è giocato Questo mi ricordo E' sempre lui No, quello è solo skill Purtroppo E mi piace Ma su l'immagine è solo skill Niente Bugiardo Che pezzettino di bugiardo Che pezzettino di sterco Di topo malato Ma quanti punti Guardate Mamma mia Anche da noi ero Anche i modatori Scegli matte Allora poi Zacca no Che motivo c'è Lascia perdere Non c'entrava niente Una volta il mio amico Iniziato a segnare Alla gente a caso Perché sosteneva Che fossero hacker Alla fine è stato Il suo account Ad essere bloccato Nice Bullluck Citazione Non sentivo questa cosa Dei tempi di tornare Su Modern Warfare 2 Davvero c'è ancora La gente che si aggrappa A queste cose Ciao Pedopir Buona cena Ciao Pedopir Buon appetit Ma mai ho detto Dovevo studiare Prima oggi Ma hai detto Non lo so se ci sono Perché devo studiare Eh vabbè Ancora sta mappa di Vabbè Sta mappa di Sta a casa di qua No è bella sta mappa Rispetto a quelle Che hanno fatto uscire Prenderò Tachanka Io ci riprovo Attenzione Tachankaro Io ci riprovo Con lo smoke Oh Ma qui No non è Secondo me sotto Quella maschera C'è Owitz Khalifa Per me c'è Twitch Per me c'è Twitch La maschera In realtà Twitch è ovunque Ci sei Passiamo dagli Di Twink Così senza Un vero Un vero e proprio motivo Allora Facciamo così Facciamo un test Ok funge Madonna Tony Che non carica Basta E sta pure l'altro Eh Sta pure l'altro E sta caricando E' vero Cioè è probabilmente La sfida del secolo Attenzione Attenzione Chi è che attivare i shit No io attivi i shit Adesso ti bannano No Per me io lo scrivo Bella Garzum Bene rovato Ecco qua Quindi Temaro mi dicevi Che a te piace il cazzo Barricate la stanza Io voglio Però sono stagionato Quello Ecco qui Stagionato Stagionato Quello con la muffa Quello lì bravo Che Stagionato Non dormo Dove ne ho volete un po' Ma te la cina è la chat Ogni fatto Eh dobbiamo No no ma ogni tanto Leggo No no ma ogni tanto No no perché Ti ha scritto mister Pieri Da questo qua Paolo No ma io lo saluto Pier Ma 10 secondi Oh arrivo un drone Il drone che cerca Di passare il vetro Aspetta Tony ce n'è un'altra Ah no è piazzata di paolo No Pier No Pier Pier c'è un motivo Se non è barricato Ah vabbò Ok Io dove ho il barrico Ma lei cosa vuole in questo cesso Madonna mia Non devi possare Solo in caso di emergenza Ah no se ne va proprio No No Non lo fare Non lo fare sa Eh ma lo sai che è lì che c'è Ah Sì Guarda guarda Ripasso la prossima volta È stato bello Un piacere Ma potete vedere Mettere le mutante Sta cosa Perché vuoi le Bannare Mister Boss Questo silenzio Non so più Zacca se invece banno te Guarda Guarda è un pier scialbatico Eh Mario fa le kill Non posso fare Non posso fare Non posso fare Vuole buttare la telecamera Ma non ci ho chiappato Ma non ci ho chiappato Che crema Ma va Ma va Ma va Si è stupato proprio Dai Io l'ho tirato E tre Io l'ho tirato No ma non lo faccio a mettere L'accoglievo Stanno ancora a terra Giuro Ma piace qualcuno lì che stai tipo smuggendo Ah bene Ho visto i bana Ma penso ai baffi stai per dire Chi è Twitch Chi sarà Che era fermo Io l'ho tirato tre di fila Non ci ho chiappato mai Non ci ho chiappato Vole un panetti di C4 Ti devo sentire quando fa Ciao Dark Oh fun 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 Oh shit No è arrivato con un po' la granata Porca trova Non si è sparata Non si è rotta Palla ho visto un po' che mi è andato sotto la zona della scarsa Chi era la finestra Dai Calati Fuse Calati Fuse Dai Don't worry Piccolina in posizione No Che bastardo Che bastardo No colpa mia Io non essere niente Come cazzo è lì bana lì Vincenzo ha ucciso Mr.Pierre È un traitor È una spia Se hai ritorno su mi sa con il rampino Mattea leggi i commenti per favore Ma sta giocando Ti stanno chiedendo una cosa Ah sta giocando Ma scusa ma che Ma non ho capito Sei tu il moderatore Porca Occhio Pierre lì sopra Se mette la testolina fa un volo Guarda non la vedo Eh ma lui vede i piedi giustamente Prima dimostrata riesce a vedere i piedi Tanto vuoi il ragazzo Non ti può fare nessun male No Ma quindi il bana è morta Sì il bana è morta Eh Sì Artù controlla la porta Ma va Così Perfetto Sulla destra sì Tutti sanno che sei qui Sei mondo visione Matt No non ti gira Vediamo Fai finta che stai guardando la po' alla finestra È entrato Il tempo scade tra dieci secondi Nooooo Nooooo Cazzo Ma io non ho visto come ti ha ammazzato però Ma manco io ci ho fatto Ah beh Così disimbotto Ah no ok Ah va per il lì Vabbè vabbè ci sta Si impegnavo di più Si impegnavo di più Si è diventato a prendere spangati di ferro Cosa che dovevo leggere? È stato fa anni Non lo so Zack Aveva detto se doveva venire in TS Ah no no vai tranquillo Zack Ciao Siege Zack però non è che devi bannare adesso il mondo Banna tutti lui C'è il sa uno Zack puoi bannare Aspetta No Mister Pierita Vai Danna ti devo bannare a te Tony Ah già io ce l'ho un account Allora sopivo questo qui e metto il sensatore così so sicuro che le butto a terra e non l'ammazzo E provo a ammazzarle che stavano a capo le bombette di Twitch Guarda le tattiche diaboliche Dovete trovare il contenitore di Non mi chiedete di lanciarle perché non ve le lancerò Mi servono perché quanto pare non ci prendo Ma prima stavi per killare uno con le telecamere praticamente Io ce l'ho registrato Era a terra io ero sopra di lui Gli tiravo le telecamere Cioè praticamente gli andavano vicino Andavano tutte per terra Cioè praticamente c'è tipo gli occhi tipo gli uccellini di fianco Quando tiravi in realtà tipo tirai d'altra parte Non so come è stato possibile Perché le telecamere si vogliono attaccare una parete Quello non è una parete allora non fa no No però funziona in teoria Sì no funziona funziona l'ho visto fa No Si vede che tu non sai fa Mi ce l'ho d'avvicinando di più Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo Parlando dello spawn kill chissà Spavano i kill Ricarico compitemi Oh hanno rotto No sembra anche bene Ma hanno rotto qualcosa no ho sentito Poi è sopra Jager è sopra Invece qua sotto c'è Sentito uno che correva Ah è rientrato ok Attento c'è Jager sulla testa È lì Cioè è lì in fondo ma non so dove andare Oh 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 grande Apri il mio corpo e non approfittarti del mio culo Per il resto mi sa Si approfittando Dov'è la delegata Per la mira Un solo difensore rimasto È mio No io toglietevi dai capasisi Dove sei? Non c'è Sono morto Noo Madonna mia E' sempre mio Ma guarda la ultima morte Cioè ma si ha sentito il boom del fusilo a poppa secondario che gli ho tirato Digli la scheggia le donne non si insultano Infatti Vannamate le donne Eh infatti Non è tutto da Mr. Pierida C'è ragione Vannamati le donne Cosa è che è successo? Che? Ah non lo so Che è successo? Chi è morto? Ah cercato ma non del tutto Comunque ti consiglio di chiudere una persona di cui si fidi Cosa? Non lo so Io regalo non vedo la chat quindi non so di che state a parlare No so Bene Perché Mario è bravo No Stanno parlando di te Cioè mille schermi ma Non li usa No il problema io non ne so i mille schermi in realtà Il problema è la connessione che se apro pure la live De Matex Io la io crasho Io crasho proprio Che bella connessione che hai Io crasho Eh se c'è un La fibra ero un bambino nuovo L'uovo Ma se tu abiti nelle valle Con il lemon Mi cattata si Mi verranno a piacere un drago volante Ah 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 E di me inattivo Tanti alla larga Il drone ne è Oh Fori Oh Ma non ho già te Oh ma vedi se fanno danni Buttamelo addosso Ricarico Ma non ho tutti e due Eh morite Eh morite Oh No no basta Eh 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 Dov'è che stanno... Dov'è che sono spawnati, giusto? Ah, da qua. Vedo un Nash selvatica, sì. Vedo, 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 vedo. Spottata. Guarda come muore. 3, 2, 1. Sono in due, eh. Ahia. Ecco. Nooo. Che ti ho detto? 3, 2, 1. Pum è morto. Eh, vediamo da buttar terra uno e lo da buttar terra, perché io volevo tirare la telecamera. Ma la testa laggando, hanno detto. Sì, però io la vedo che va bene la telecamera alla fine. La telecamera? Eh, la telecamera, la... porca troia. Eh, forse sono loro, boh, devono rifresciare la parte. Infatti Toto dice non lagga. Uibo. Mono, non ha gracci 4, perché una testa di vitello me l'ha rotto. Non, 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 non. Non è mio figlio, non ho fronte. Heinz, va Heinz, polizzi, Heinz. Sapete per caso dove stanno? Ma che c... Oh, ma è gritello. Ma è poca troia. Ho paura, ma, torna indietro. Aspetta Eh, Saspax, Saspax, è la tua connessione, allora Devi vedere chi sta scaricando qualcosa in casa Stanno vedendo un porno, queste cose Stanno vedendo un porno, queste cose Stanno vedendo uno col drone Ah, il drone, sì Sì, queste granate enormi Io mi chiudo dentro Ciao Morda barricata Ash presa Yes No, cazzi, bana, non ho fatto in tempo a prenderla C'ha tre quarti di vita In la mia posizione Quindi dovrebbe arrivare Ma che faccio il rumore? Ah, che faccio il rumore? Sono ieri, ieri Ok, vediamo, vediamo Vediamo se c'è qualche telecamera Utile No, infattivamente non esiste Spaccano cose Ah, vabbè, quindi Ciao, draman, ciao, è bello Ci rimechiamo alla prossima Ciao, ciao, draman Non lo voglio, la coppietta Oddio C'ha 30 secondi, eh Madonna mia, mal di testa Ok, eccomi Ah, ma te ne è andato Non ne avevamo accorti della tua assenza Ma anche della tua Qui Qui volano offese Oh Oh Ma ho sentito Holy shit Siamo a 15 secondi Ah 10 secondi No Che scala Devi mirare col fucile a pompa Terrawolf Che fucile di merda Madonna, mira è infallibile comunque, colpi dritti per dritti in senso un minimo di rinculo, cazzo è tenuta bene l'arma Io Ah Ah Poi ci hai fatto Ah 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 Ecco Tutti sti Ah Poi si passa Vado alla pizza che mi attende Ciao, Matteo sei grande Ciao, Ale, grazie a te di essere passato Poi 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 Solo te Si Ah Quei fucili, devi mirare il fucile a pompa Se non miri non fanno un cazzo Ma il fucile a pompa da che mondo è mondo? Si ma Ora, ascolta da che mondo vuoi? Stiamo parlando di Rainbow Six Siege Quindi tu devi mirare sul fucile a pompa Ora si spiegano molte cose Ah Ho visto mio compagno morire No, no, da che non mi vi dire Che è il passo di mano che si spunta Vado a dirti Per fare i punti C'è delle merda Ma vedete di solito il drone A parte un po' Mario fa tipo un giro panoramico Perché sta pensando di andare in vacanza e visa Ero un zumba Ero un zumba Ero un zumba Ero un zumba Ero un spazio Ero un zumba Si questa è la camera da letto, la suite matrimoniale Il drone è attivo Il drone è attivo Cucu Oh bella quella città che sta sulla costa Dovrebbe essere visa Ho sparato nelle finestre di quella città Forse ho ucciso una nonna Una nonna? Oh Pier attento Oh chi è che ha sparato qui? Fino a qua, di qua sembra libro Sono a secco! Sono a secco! Il drone è attivato No 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 che cazzo doc Come un coglione Che coglione Che coglione Sono diventato una bottiglia di whisky Ammazzato tutti eh? Si ma perchè ho sparato io sono andato in secondario Non avevo visto che era doc E c'era Rook dietro di fianco Dove sono entrato io Porta aperta sono tutti in fondo No No Bella ma C'era anche Docli eh Guarda che merda Spara! Spara! Spara Mario! Spara! 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 Eccolo ecco! Ecco mi hanno ucciso! Attenzione tattica del cadavere! Aspetta mo li aiuto a trovarsi Ma non s*****i Perché mo D'ali da lenta? Questa tattica del cadavere non lo scopriranno mai Guarda come si destregge In mezzo ai cadaveri Quei cadaveri non torneranno mai più alle famiglie Vedremo il prossimo se riesce al capo a fuori Bene Aspettiamo che gli altri quittano Sei morto Ma perché ti vissi lanciato Ti fa una busciata Non lo vedo più col drone Guarda come muore 3,2,1 È rimasto il tipo che stava dentro Infatti Non c'è nessuno Mario Tengo Ah l'ho spottata non so come Ma che ho fatto il spottato? Ah l'ho spottata Ma cacchio lo spottato È dietro al bancone Rush è l'obiettivo Mario Rush è l'obiettivo Mario Rush è l'obiettivo Mario Poi deve entrare lui Dalla la porta dritto per dritto Sì ma non fa in tempo No 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 Cosa della parola rush Non hai capito Guarda stava qua dietro Preparava gli aperitivi Che poi è bello che il primo cu Va dai È quasi riuscita la tattica comunque No Quello ci stava cazzo Ci stava a fare un necroni sbagliato Tu non gli hai dato tempo No Ma la roba bella È che il colpo L'ultimo colpo È andato sopra la testa Non l'ha colpito Non so come cazzo Gigi Avete perso 2 a 3 No quanto 3 a 1 Quanto No È triste Sono triste Perché sono andate male Tutte Sono andate male Stasera niente completo Esatto Adesso le ributi fuori O da dietro o da sopra Scegli Ok c'è come partire da dietro Poi viene estratta Da buttare la mattina da dietro Viene estratta come quando fai le salsicce Ti metti tipo la sacchettina dietro Ti tipo Tipo fai le salsiccine Tipo dopo fai il lodino no Col budello del maiale Che schifo Che schifo Piero Piero è il primo che lo fa Sì infatti Fai Mamma mia Infatti io facevo le salsicce Di merda Io facevo le salsicce No di merda Ciao sala Di cioccolata amara Cioccolata amara Attenzione abbiamo Giuseppe Nona del Del Ma che è De una foto di un vecchio Con la regola Sì hai visto Sai che è lui Ti immagini Ti immagini E si sta giocando tipo così Con la pistoletta in mano Con un occhio solo No Dadella Io non capisco perché In libere si trovano i team Oh ciao Ag Tipo ecco questi qua Ecco Guarda ecco 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 E In classificata Ci sono sempre Gente a caso Ma chi sei Non a caso C'è a bocchina con te Madonna mia La ricerca La ricerca Cioè il bello di Rainbow È l'attesa delle partite Un matchmaking Che per trovare una persona In tutto il mondo Ci vogliono 30 secondi Per trovare una persona Al mondo Perché l'attesa di Rainbow In realtà È so stessa Rainbow Ecco È tutto nel suo essere Bei tempi anche quelli Quando ci metterà tanto tempo Per cercare Ne scappatevi io Bene bene Il vostro pedofilo Di fiducia è tornato Prendilo Mira Matte Cosa Prendilo Mira No ma non Mi interessa Prendere Mira Vai Fai Lo prendo io Lo prendo io Bellissimo E proviamo a sparare Solo fucile a pompa Mirando Oh Doppio fucile a pompa Vuoi fare Fai se no Vabbè Vabbè E comunque il bug Non so se è risolto tutto Perché io ho avviato Praticamente Quello per cambiare Per mettere il silenziatore L'ho avviato Prima che Ma alt-enter No Quello è un'altra cosa Ma tu adesso Non puoi premere alt-invio Non puoi premere alt-invio Regà Mi hanno tolto alt-enter Non stai a mandi proprio nessun secondo Piar Sì L'hanno levato Ah Che peccato Perché che hai preso tu Hai preso il tu Vin Diesel De fiducia Lo so Ma volevo prendere fucile a pompa Pure io Ma che c'ha Fa Ma che c'ha Fa Infatti c'è ragione Non ci do così Dai Proteggete le bombe No Proteggete le bombe Ah Artificerie No Cazzo Su due piani Che pensi che ci sia un posto di merda Ricordo che ce n'è sempre un altro Tipo Uno rinforzato Tipo Che ne so Mi ha detto questa frase Basta Ammettemi difficoltà No Ti prego no Tipo Ti metti un angolino al buio E sbatti le mani nelle orecchie No Non voglio più sentire Non voglio più sentire Non voglio vedere Non c'è neanche dove mettere Il zizio Dove vai il piccolo Pierre Dove se ne va Dove vai No Non si può Cambio carichiamo a 5 secondi Muro rinforzato Corvegliate le bombe Il nemico ha un disinnescatore Ma io ho sbagliato ad aprirli Cazzarola Oh shit ma qua la finestra è aperta Mi sentite Si No Ok Ci ho volato i granati Addirittura Oh ma che è Sensore attivato Ma che cazzo Hai fatto un buco Questa è sdraiato Da lontano C'è Glaz Dimmi che è una barricata Matt No Massimo Oh Ma quanta gente No ho sbagliato Sono tutti Ecco Veramente sono tutti da voi Matt Sono in tre Hanno trovato una bomba Proteggetela Oh hanno trovato un'altra L'altra bomba Hanno trovato Grande tipo Uh Vabbè Come avete fatto a essere ucciso a vicenda Non ho capito Chi spieghi Cazzo non so Io l'ho ammazzato prima di lui Che è ucciso quello sopra Bene Grandi Grandi ragazzi Grandi Ciao Toti Grandi raga Bella Bella raga Grandi Non ha fatto un cazzo Probabilmente Tutto sembrava perso Oh Eh Dati complimenti Che temi Quando tutto sembrava perso Ci fu lui Csep Non ad Bleh Glade Sarcavo Faccio proprio Glaz Proprio glaz E che glaz Attenzione Attenzione Potrebbe essere la svolta Mentre abbiamo un mariolino Col teccerino e silenziatore Come prima Che hai usato molto bene E un pier con la scena Ho i prova La stessa cosa di prima Ah Cioè Prima Fai morire Pier E poi dopo Ti ci metti dentro Nel cadavere Aspetti Che non passa qualcuno Ciao Gabri Proprio così Cioè Così senza Pini Lo senti? Lo senti Pier? No Lo senti? No Ormai ha perso sensibilità Tanto delle ombre È il rumore del cazzo Che sbatti sulle guance Uh Quello uh È stato magico No È lo stupido Castor Ma non è lo stesso posto Oddio guardate su che cornici Non si è da finire Bravo Mario Un biscottito Un biscottito Oh il Sandro Grande Qui sono quei due? Inserimento tra dieci secondi Buone pulso Oh il Sandro ha chiesto C'erano il quinto posto Sì ce lo diamo il quinto posto Cinque secondi all'inserimento Ah volendo sì Ah no C'è sepp no Una del Mi dispiace Non buce Sponkill Secondo voi Sì stanno sparando Non ti ho facciato Spare di copertura Stavano sparando Sì infatti Proprio lì Hanno aperto un buchetto Chi è quel grande Che aspetta Ah Dio È morto Cazzo È morto All'è Tanto Ci muovo prima Coglione Ho fatto una Oh Io 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 paravo la testa Non è Perché non ci Chiapu Ma Perché non ci Chiapu Sotto Madonna Davvero Allora ci sta un tipo Qua Ma E pur dia che mi viene da sopra Ma se dopo siamo cinque Facciamo una rank Oh tu stai rank Ti hai rotto I cabazzisi Ok Sto piazzando Vai Ah così Di carpi veri Preso No Due assist Da massa Attenzione Il ladruncolo di kill Il ladruncolo di kill E quando sei ripreciso Dove è? Ciao Ecco come si sentono I cheater Ciao Red Allora Riprenderò un bandit Selvatico Ma il quinto posto C'è Sì sì Sandro Dopo vieni Anzi Sei su TS Ti trasferisco subito Eccolo Oh grazie Ciao Sandro Ciao Sandro Io Sandro Sandro Ci ho No no Ok Ok Così No ma ci ha Guarda abbiamo spazio Sandro Si è abbandonato il tipo Si è offeso Si è offeso Si è offeso Avevo No ci avevo 3000 audio Sia quello della live Sia Ma da Quindi non capivo Adesso finiamo questa Siamo iniziando questo turno E ti invitiamo subito Siamo subito Una bella rank No ma proprio così Di cattiveria A me me ne mancano due A me me ne mancano dieci Miri mi ha appena fatto perdere l'unica che ho perso di quelle piazzamente che sto a fa Strano 18 è Dark che fa perdere il rank No che cattiveria Con Dark e Black abbiamo giocato meravigliosamente Ora Miri è arrivato Abbiamo fatto un duo in ranked e l'abbiamo perso Dai dai che recuperiamo adesso Mi rende si è forte tanto Però porta Yella Sì specialmente quando torna dalla palestra Non è la prima volta che mi ha fatto perdere Quando c'ha queste belle idee All'ultimo secondo La squadra d'attacco ha trovato una bomba Renta all'assalto 10 secondi Ah che visione Ah che visione E dove è il drone twitch Eeeh l'ho sentito Eccolo Rotto La squadra d'attacco ha trovato una bomba Prepararsi all'azione nemica Dove sono spawnati Allora bravo Se tu la tiri Loro ti ammazzano e non fa caso a me ma ecco maleditto guarda come mi stupra che cattivo perchè mi vuoi stupare quando mi vedo adesso che ti stupra quante belle cammettini incrociate adesso non ce ne sono le bombe siamo impegnati a stuprare la sua vicenda tutto via il mouse non sa come se vincono queste partite mattex basta stupire l'avversario tipo così toni è meglio che te ne vai dalla stanza perchè mi sa che arriva più già però morto sono morto ma stupire l'avversario no no non ho capito io ho sparato un caricatore al corpo non è morto seriamente adesso parte di scherzi raga qui se le cose si mettono un po male ricarico ah stavai piazzando buck l'ho ucciso stava piazzando sotto partire merda ho fatto nooo che lingua è? eh azzateco azzateco a piazza sotto no! eh non l'ho visto non l'ho visto va bene anch'io lo sapevo eh non c'è che l'avevo vista ah si no vabbè erano due rate sinistra e destra vabbè ci vuol dire purtroppo sto giro sto giro faccio di nuovo glaz sperando che non faccio due assist e invece neanche quelli che roba ah Mario che ti faccio azzateco ma non sceglievi ho detto ah ah wow ahish oh poi ti ha prima ma quello matt non vuole9 fare negate con noi che siamo scarsi giustamente chi? Tu Io No io mi chiamo Matt E io come mi chiamo? No una rank si può fare Magari facciamo la rank e poi dopo chiudiamo la live Chiudiamo in bellezza con le bestemmie Cioè mi saluti di Natale Saluti di Natale Ragazzi buon anno Tu Natale la gente dici figli maschi Buon Natale e figli maschi Ti auguri a Natalia Game Mi raccomando figli maschi Maggiamo un maggio Piero che fa l'aguri A casa sua e parenti Oh auguri figli maschi Beh la red school è bella roulata Oh ma sono tutti qua sotto Io poi ho paura che ci sia qualcuno di sopra Che sto spoilerando Sto spoilerando Sto spottando sti due ma non mi chiamo Si girano a rompere la telecamera No Oh si girano No Abbiamo il disinnescatore Raggiungete la bomba Io ho paura di morire Ho paura di morire Ti togli dalle palle Si Tu Stai sulla scala e non ti muoio Io E' vero Aia ma hai sparato Dai tiri mi su No devo salito Tiri mi su Dai Per forza Ah mi brutta la mano Aspetta No Alza No ma si vendica No 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 Già l'hai fatta con una C4 Ho paura di te E aggiungerei E fai bene Oh ho visto Ho visto Jugger che andava su Ubi Giagal ma Giagal non è Sì appunto Fieri sta mettendo a posto lei Dai un attimo sta dicendo Dai Non so Sto sentendo se ha visto Jugger Eccolo Madonna Ho rotto la barricata Corre una facilità Qua c'era Ecco eh Non so se l'avete ucciso No Ma chi era il defensor Ce l'ho io Il cecchino Mi sembra giusto Comunque Matte Guardati qui a destra Che da quella parte Perché ho fatto i buchi Da quelle parti sulla destra Di su Uno è stato spottato Buttiamoci in sicurezza Po Matte le spalle Matte Ma va a cagare Un altro po Un altro po Troppo Eh mo finisco il cenaro Dai ma ma Un altro po Finisco stare anche a del cenaro Madonna Due teste che si muovevano Uè Uè la Cosimo Bentornato Ben ritrovato Troppo lavoro Alla fine Ti hanno visto Che guardavi la mia streaming Oggi E ti hanno fatto Lavorare Pesante 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 Le comande È all'interno Ma non è Il diffuser Deve tornare a raccogliere Le voci Tutte e due Mario da lì Amore 3 2 Dietro 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 Ma come ho fatto A farlo dietro Senza che lo sentissi C'è no non lo sentissi Ma non è stato spottato Ma non è stato spottato Io ti ho detto 3 2 Ah È francese Tu non lo sapevi Scusa dove ho Dirli Ma questa partita Era Però è strano Non l'ha spottato Che è uscito fuori Dal Chisà Dipende Dal quanto a strada Ha fatto Perché se era Soltanto al piano superiore Come era Fino a 5 minuti fa Allora può essere Che Semplicemente È uscito È entrato Sì ma da lì Dov'è che puoi fare Un buco per uscire L'abbiamo fatto A noi prima Ah ecco Bravi Bravi Io Io Certo Sei l'unico Che ha le cariche Tra noi Ah Adesso Diamo subito La colpa Cosa Così 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 Adesso Ma colpa Chi ha le cariche Mario ti saluta Cosimo Oh ti saluta Cosimo Infatti la posso salutare Puri mi sente No in realtà L'imitato la tua voce Cosimo non ci fa caso Sono rincoglionito Io È fatto Vex Ma te x Mario Mi sta facendo perdere Sì È vero Ma perché sto cercando Di ammazzare La gente strana Che è che è un affare Ciao Guardi Ben arruolato Ciao C'è un gruppo Ma te Mario Vi sta facendo perdere Sì Il quadro d'attacco Ha trovato la voce Ma perché loro non lo sanno Chi è entrato Dai live Da poco Non lo sa Io sto cercando Ammazzare la gente Con le Con le Granatine Di Granatine di Thatcher Raga è difficile È difficile Oh grande Sergente lupo Attenzione Mi pare che le puoi uccidere Soltanto quando C'hanno uno di vita O due di vita Se gliene lanci due Le butto a terra E poi dopo Ci provo Raga Una barricata di ferro Non ce l'ho più Finite Mario tu ce l'hai No Non ce l'ho Non ce l'ho Ma ce ne sono quattro qua Come le abbiamo messi Le ho messe sotto Pugiardo Tu non ti vantare Da testa Non ti vantare Sono ci quattro Oh Aia, 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 aia Ezzale, Mario, sparisci Io sono 16 di vita, ragazzi C'eriamo un medico No Via Via, fuci Sono morto, sono morto Oh, oh, sono morto io No Tienami su, Pier, tienami su Sono venuti giù dalla porta Merda Ma che confetti di Natale Matte non sente niente Perché sta dall'altra parte Ma quanti ce ne ha poi? Ho fatto una headshot Quando è? Ma è cagato cazzo Ultimo nemico rimatto La tua posizione è stata compromessa Ragazzi l'ho buttato a terra Per forza non l'ha ammazzato Che lo devo fa' sta cosa È l'ultimo Non può cadere a terra Genio Se l'acca mentre muore Si Bravo Be careful Potevi tirare le telecamere Per uccidere C'era rimasto a terra Guardalo, guardalo Ma cosa stavano facendo? Perché ti volesseva più l'ara? Chisà L'arma di medikit L'arma giocattolo di marefattita Ahahahah Non è tanto sgrana L'armo Un picio nerf Nerve It's a nerf or nothing Nerf this Maddolla Maddolla Mattex fa 9 kill Non mi chieda nessuno Ho rischiato in questo momento di fare anche il full team Cazzo Attenzione Dai vediamo a Sandro Per la partita 666 Maddonna Un segno del destino Maddonna No il segno del destino Ce l'ha avuto Marlock prima E abbiamo fatto una ranked così al volo Ehm Sato che un mio amico che avevo invitato E' partita la connessione Quindi E' stato cliccato all'inizio della partita E non è rientrato E quindi abbiamo giocato tutta la ranked 4 contro 5 Davvero? Sì E abbiamo vinto 4 a 0 E Marlock ha fatto 4 uccisioni 4 assist e 4 morti Attenzione Eh veramente Troppo impensazione Troppo Ma questa cosa fa pensare E' più interessante Se hai un libro se scrive E' come lo chiamo Ok 4 La morte del 4 Che dobbiamo fare Una classificata Sì dai facciamo la classificata Andiamo a perdere Una ranked Classificata Per 18 più Ora spero Per voi di no Non voglio perdere La prima ranked Ma tu la fai con Mario Grazie che perdi E pure l'applicazione Lego Batman Il film Eh senti E però tu non ci vai a vederlo Mentre io si Ciao facciamo una cosa Tu vieni con me stasera E a domenica Mando la mia ragazza con la tua Andare a vedere 50 sfumature di cosoli Sfumature di Cazzo Di cazzo in culo Ma che siamo in fascia protetta Ma protettissima proprio Cintura di castità Povero Mario L'ho scritto in chat Fare la tattica del sacrificio Con Mario Regà So triste Cioè domenica porta A bere 50 sfumature di neve De neve Beh è neve Neve 50 tirate di neve Oddio Dai ragazzi Carichi eh La poecca andava a bere 50 scurocciate da un nero Guarda qua l'approfondita Il razzismo vola Quindi Mattè scusa Naturi tu ti prendi quelli nuovi giusto? Come vuoi? Se lo vuoi te prendilo Che sto adorando il fucile di Jackal Vai 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 Cosa vi serva ragazzi? Un miracolo Prenderò i bana dai Eh esatto bravo A meno che non vuoi te Mario eh Se vuoi te Mario te lo lascio Tu me li dichi in your mouth A neve tira su Mario e vinci le classificate Stiamo già giocando 5 contro 4 Silenzio non gufa Io sto aspettando il film Resident Evil L'ultimo capitolo Quando è che esce? 26 febbraio Ah madonna ma chi me l'ha Oggi che giorno è? Ma non uscivi il 3 da febbraio Oggi è il 10 allora ma chi me l'ha ancora Sì altre 16 giorni 16 giorni Due settimane due giorni Eh Pier Dimmi Non uscivi il 30 febbraio? No No Ha pure disposto Non esiste Lunedì Lunedì Non esiste No è sempre lunedì No quest'anno è trisestile Pier Sì C'è anche il 31 Ok sala del treno eh ragazzi Il 30 febbraio è sempre lunedì Cioè se per dire il 29 Cioè se il 30 Il 29 è lunedì Il 30 è sempre lunedì Doppio lunedì No Oddio sei incastrato Oh sono già in 4 No Io ho sbagliato buco Volevo entrare in un altro buco Vieni vana Niente Sì magari sono in 4 Poi in realtà di là ci sono massigeti Dimmi Vieni con me sopra E moriamo insieme Mi difendi Sì Alle spalle Sì Io ho chiuso sotto E poi Se non ha messo la botola naturalmente Tutto tutto Questa è l'esercizio Perché chiede a Matt Che se d'uscita No sono bruttana Che vuol dire Ok Eh no Passo par di qua più lungo Io avevo intenzione Di andarmene su su Io vado qui Eh più o meno tutti Mi sa che stiamo Alla fine stiamo andando tutti su su Oddio nello spigolo l'hai messo Aspetta che non mi funziona la carica Beh la mister è però Ma va a cagare Vorrei recuperare il drone No Era il drone di Hokai Allora Sigari nessuno Stanza dove possiamo bucare La botola non l'hanno barricata Per niente Eh già guarda Io Possiamo entrare Oh guarda Avrei entrato Ma possiamo entrare Su qua Ah E che sta col drone suo Scusate Attenzione stanno pure nel corrido Io ho lasciato il drone proprio preciso dentro Eh possiamo che fa Aspetta a farmi aprire a botola Su acido C'è Come pure piazza Ma Ha stato attento Che appena niente Te sparano dal buchetto È stato fatto solo di sua destra Oh Oh si Che cazzo Oh C'è uno sopra Oh Oh E' un bravo Sandro E' teneo E' preso Aspetta per Eh scusate E' allora l'ultimo E' rock che sta dentro l'obiettivo Stava Fatto prendere E' colo Infarti proprio sto gioco Ah no è lì è lì L'obb Bella Bene 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 Ragazzi Ottimo lavoro Oh Io manco Oddio non è il Un coso laser nel mirino Io non l'ho visto arrivare Quello là mi è venuto un infarto Quando mi sono visto sparare Mario ti vogliamo vestiti da donne E poi si 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 che ti piace La Poelkan Che voglio Mario vestito da La Poelkan Come Mario vestito da La Poelkan Per Carnevale Tipo Non lo so Dove ci vogliamo mettere? No io ancora non ho guardato Abbiamo Pompino Miniera Vai Pompino Miniera Fireplace Mining Room Witte seco Vabbè Regà uno che protegge sopra Oh ma un altro è uscito Dei loro Io potrei Ha quittato un altro? No No Si 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 ma dai Si si immagina Mario vestito da La Poelkan Ma ho un quittato davvero Ma penso che ci abbiano problemi di connessione Non penso abbiano quittato Oh Mario ha problemi di connessione Mettilo più a destra possibile Il vetro nero Guardi Sandro c'ha problemi di connessione Ciao Sandro Si si Ho trovato una bomba Proseggetela Sandro poverini sta cercando di Ti bucarci in testa Va bene qui Perché Mi dispiace bro Eh beh si Eh con me li spari Infatti non gli conviene arrendersi Si spari Testa di micia Ah col vetro avanti Tu lo mettevi qui Mario E io ma facciavo e sparavo Poi sei troppo Oh Scusa non l'ho fatto Posso passare Sì come no Si Non ti dovrebbero conoscere Io ti fanno sopra Parica un po' qui E qui Parica pure qui Ce l'ho messo tutto Sta un po' zitto Io non ce l'ho messo tutto Porcellini Oh Guarda la protezione che ti do Aspetta Allora Ma fa' il culo Ma come No Ma qualcuno ha visto dove sono sponati Mario metti nella te Almeno Tua una è sotto alle scale qui da me Guarda come non mi sta a sentire Che persona brutta che sei Oh cazzo Che ti uso se capi a ste Quello è già rotto del vetro Così almeno se vede io Almeno se vede qualcuno gli può spara subito Ok Ecco Preso Twitch Bravo Mi stava rompendo il cazzo a me Oh Shit L'ansia 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 L'ho riattivato Morri un'altra granata da Timbuktu eh Atentiti Oh Chi è Doc? Io Mi spari un po' di droga Un po' di Red Bull Di siringa Oh chi è che ha sparato? Mire c'hai in montagna o qualche scudo qua? Chi è vero ma che avevi perso? 10 HP Dove? Dove? Dove è lo scudo? Pingate? Fuori Proteggimi Piazza della Nitro Faccio sostare No Ci sta scale bianche Scale bianche Ci sta Ashe Ashe la bagage Non ho proprio visto che c'avevo la pistola Va bene te Ok Oh Ma por Va bene lì guarda Pierre guarda le scale Ecco la vedi la vedi Stavi vedendo No sulla sinistra È morta Bene Mi è rimasto lo scudo fu No io non lo vedevo Ha sparato senza mira ma chi ha poi un testa ma chi ha poi Sei uscita in cinque Dovete uscire in cinque però non una alla volta Alzati Esce Bravo Vai Bene così Fai una alla volta Fuoco sincronizzato Esce dopo giusto per dire Non rialzarti più Infatti Con il pezzo di me finale Il tuo proprio Ma perché non ci vogliono arrendere Basta Cioè se siete in tre Non perdete tempo Oh ma forse Da questo round di poi non possono più arrendersi Il cuore delle carte Vedono che No ma quando è così arrenditi cazzo Sì subito Ok Cioè non perdi neanche tempo Poi mi dice che non vai neanche perdere abilitato Perché non mi possa arrendere Ma come si arrendere No perché dal secondo Cioè dal terzo round All'inizio del terzo round in poi Se una squadra sola sta vincendo Allora non ti puoi più arrendere Ah Se invece sei in parità Allora si può fare La resa Ma che stranza Scusa sei in parità Perché uno si dovrebbe arrendere Sarebbe più logico se una squadra è in vantaggio Non c'ha senso No ti puoi arrendere pure se sei in parità L'ho visto io Sì no però ho capito Ha più senso se magari Tipo noi stiamo vincendo 3-0 Non si vuole arrendere No anche se siamo 2-2 Normale che 2-2-1 cerca di lottarla Fino alla fine Se vedete l'opzione già è attivata nel menu Pure noi possiamo arrenderci Pure l'ora adesso Ok smoke è di sopra Dove siamo entrati prima noi Che abbiamo fatto Sto anche prosto sopra Uh bella trappola che ho messo sulle scale Ma si vede tardi quella Direi come prima Andiamo Insigheri Ah mio maricatore Spawn kill? Niente spawn kill Nooo Non penso che la vanno a rischiare Eh Detto sinceramente L'opzione che potrebbero Infatti a spawn kill Adesso sarebbe ottimo E riesce a vantaggi Sennò quando già siete in treno Non ci sa mai Un colpo magari random può sempre andare a Finirci Non c'ho drone ma Ok Non mi metto Sotto la tempura Allora vediamo sotto le scale Ah già ho spaccato In giro Ok sotto le scale non vedo nessuno Insigheri Qualcuno ci ha guardato Ce n'è uno lì adesso Ah no ok È morto Ok ce n'è uno Bandit qua Sigari Vabbè Ok Ti rinuncio raga Eh che cazzo Ok Sandro È dentro la stanzetta Quella Quella chiusa Oh cacca Quella è È da sigari lì Si è spostato Ecco sta nella versi Mira Mira sa Subito a sinistra Mantai Che palle Merda Mi butto e piazziamo Viero Eh Mhm Hai appena rotto il drone di map L'unico drone che potevo guardare Dove piazza Piazza qua Ok Ok Molto Bene Ok Difensori neutralizzati Sui figli ha assistito Sto assistito Madonna Oh Tipo si fermo Tipo Evite veramente quel video Tipo delle capre Che quando le spavento Tipo si bloccano E cascano Uguale Si Simile a quello Eh dove difendiamo Cucina o O bar Meglio bar Cucina ci sta Quello Nella Pasticceria Alla Che è bruttissimo Sano scusate Ma sei la fidanzata di matri Giusto Si è lei Ah Già c'è stato a provare Vecchio 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 Prima di essere bannato Vecchio Vecchio Porco Pesco Eh beh Ci stava Dai Ci stava un corno Cioè Poracci V3 Eh beh Si Si sono ritrovati Abbandonati No ci stava Che ci sono arresi La fine Cioè Continuarla Cazzo Continua a fare Cioè Perdi il tempo Cioè 022 Guarda che merda Ho fatto Ragazzi Va platino Platino 3 Partite rimaste Prima di essere Classificato 9 A me una Dovremmo fare un'altra Perché questa è stata Troppo Eh ma no Devo chiudere Adesso la live Peccato per quello Ah peccato Ciao Rifacciamo la prima volta Non è un problema Quindi ragazzi Volete fare un saluto Chiudiamo la live Che dite Vai vai Dai Vai 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 No Date bui Ok Andate sul canale Di Mr.Pierre Che fa i video Anche lui Perché anche Se non ci credete Gli fa anche lui i video Da nudo Un saluto Da Yati Gaming Da Tony E poi tocca a voi Vabbè quindi Mettiamola così Allora ragazzi Vi consiglio a tutti Di andare a vedere Quindi il canale Di Mr.Pierre Di Yati Gaming Group Che lo trovate Nel mio canale di Youtube Ragazzi Tre canali suggeriti Che sono amici Cari amici Datevi dare un'occhiata Perché non conosci Ma tanto ragazzi Come fate a non conoscerli Quindi ringrazio Tutti voi E tutti voi ragazzi Che siete stati qui con me Dimmi 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 Però dillo Che anch'io faccio le live Dal lunedì al venerdì Dalle 2 alle 4 Ma scusi come cazzo faccio A saperlo Io sta cosa Scusami Ok Ok Più pubblicità tu Che la team Durante il festival di Sanremo Quindi ragazzi Il Pier fa le live Del lunedì al venerdì Dalle 2 alle 4 Se volete Quindi lo trovate Che lo trovate anche voi Qui su Twitch Se volete Quindi ringrazio Quindi Mario Pier Tony E anche Sandro Adesso Quindi grazie ragazzi A avermi fatto compagno In questa live Grazie Sandro Per questa Fatta vita Sudata Cioè madonna Le goccioline E in più ragazzi Ragazzi Ringrazio tutti voi In chat Quindi se vi siete Perciò qualcosa ragazzi La ricarico su youtube Non vi preoccupate Quindi grazie molti autori E ci vediamo Al prossimo video live Bella ragazzi E bella lì Ciao ragazzi Ciao Andate a vedere 50 sui motori Grigio con Mario Con Mario proprio Scritto Con Mario